Numero 5. Bicicletta senza pedali per bambini dai 18 mesi in su. Design sicuro. Le ruote allargate garantiscono la sicurezza del bambino. Lo sterzo è limitato a 135 gradi per evitare che il bambino cada. Questa mini bici senza pedali garantisce una guida fluida, comoda e facile per i più piccoli. Aiuta a sviluppare l'equilibrio, il controllo e la coordinazione del bambino. Facile da assemblare grazie al design modulare, richiede solo 3 minuti, nessun attrezzo è richiesto per l'installazione. La bicicletta è disponibile in diversi colori. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 4. Bellissimo trenino musicale. Molto amato dai più piccoli. Dispone di luci, di musica e ruote direzionali a 360 gradi, può cambiare automaticamente direzione dopo la collisione, durante il processo di corsa. Include 6 blocchi diversi abbastanza grandi con forme di frutta, numeri e lettere. Questo giocattolo musicale è adatto a bambini dai 6 mesi in su. Il treno musicale resiste a urti, graffi e cadute. Idea regalo originale per ogni occasione. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Ottimo rapporto qualità-prezzo per questo tavolo di attività musicali. Propone al bambino 4 luoghi divertenti da visitare come la casa di cagnolino, il mercato, lo zoo e la fattoria. Divertimento assicurato con tante attività che intrattengono il bambino. Dispone di tecnologia Smart Stages con 120 canzoni, melodie e frasi. L'alfabeto, i numeri, le forme, i colori e le prime parole in inglese. Le gambe sono removibili, potrai aggiungerle quando il bambino è pronto per stare seduto o giocare in piedi. Gioco adatto a bambini da 6 a 36 mesi. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 2. Ottimo rapporto qualità-prezzo per questa magnifica poltroncina di cagnolino, un gioco educativo per imparare suoni, musica e frasi. Adatto a bambini dai 12 mesi in su. Dispone di tecnologia Smart Stages. I contenuti da imparare cambiano man mano che il bambino cresce. I tre livelli di gioco offrono canzoncine, frasi e suoni entusiasmanti adatti all'età e alla fase della crescita del vostro bambino. La poltroncina attiva le canzoncine e le frasi ogni volta che il bambino si siede e si alza. Idea regalo originale. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 1. La macchina cavalcabile di Kikko pensata per sviluppare le abilità motorie e la coordinazione dei movimenti è adatta a bambini da un anno in su. Supporta fino a un peso di 20 kg. Questo gioco è realizzato al 75% in plastica riciclata, fa parte della linea Echo, giochi progettati da Kikko nel rispetto dell'ambiente. La macchina cavalcabile è dotata di ruote piroettanti che permettono un'elevata libertà di movimento in ogni direzione. Dispone di uno scomparto sotto il sedile per riporre i giocattoli del bambino, un clacson meccanico, e tanti divertenti adesivi per personalizzarlo. Disponibile in due colori. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione.